Parchè! Sei pronto per regalarmi la vostra formula magica? Certo, ti regalo la cera tonificante per Parchè di Rio Verde, talmente magica che non ha neanche bisogno di miei suggerimenti. Applichiamola e vediamo cosa ne pensa il tuo Parchè. Ormai non sono più una principiante. Pulisco il Parchè con il detergente neutro, il famoso RR1050. Aspetto che sia perfettamente asciutto e applico la cera, così semplicemente a straccio. Perché Rio Verde è un amico del legno e con il legno tutto diventa più facile. Nella formula magica ci sono cere speciali e selezionate. Vogliamo esaminare insieme il risultato? Certo, allora direi che lo ha ravvivato, vedi lo ha lucidato e ha persino mascherato i graffi, incredibile. Ha ridato tono e colore al legno e alle sue venature. E poi non ha nemmeno odore. Naturalmente, e lo proteggerà dall'usura. Ciao. 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 C'è cunningo. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.